essere così gentili e pazientosi da raccontare, ma questa signora di Positano News, da dove venite? Sì, noi veniamo da Castelnuovo Berardenga, rappresentiamo la frazione di San Gusme e siamo qua per questa prima tappa. Ma non vi vedo che siete venuti per vincere, mi sembra che siete più venuti per il sole e per il panorama che per vincere. E per mangiare, che si mangia anche bene. No, è per vincere, per vincere, per vincere. Ci dite i vostri nomi? Alicia Jacopo Gianni Ci vediamo sul podio? Sì, speriamo.